Coronavirus e l'Africa finora è ufficialmente indenne dai contagi, ma in realtà mancano i dati. L'OMS convoca a Ginevra esperti da tutto il mondo per ragionare di vaccini contro l'epidemia. Solo il 30% dei ricercatori e donna in Italia sono la maggioranza degli iscritti all'università, il 55%, ma ancora poche quelle che frequentano un corso scientifico. Pinguini in Antartide, meno 77%, Greenpeace lancia l'allarme, è un segnale dell'ecosistema che sta cambiando in modo irreversibile. Buon pomeriggio dal telegiornale della scienza e dell'ambiente. Allora sono 1.016 morti in Cina, secondo le stagioni...